SIGEP 2020 ci troviamo allo stand della NADFOOD, l'azienda emiliana che quest'anno celebra il ventesimo anno di attività e siamo in compagnia di Alessandra Caletti, la responsabile marketing dell'azienda. Alessandra bentornata. Grazie, grazie mille, quest'anno è un anno importante per noi perché come hai già anticipato festeggiamo i vent'anni della nostra azienda che è presente sul mercato e che ha fatto un passi da gigante appunto in questi vent'anni diventando uno dei player di riferimento del nostro mercato bar e affini, quello che si definisce away from home. Nella way from home ormai siete una certezza, una costanza e una presenza capillare in tutte e venti le regioni italiane. Perché al SIGEP 2020? Cosa presentate ancora una volta di nuovo? Allora, quest'anno è un'edizione per noi particolarmente ricca perché presentiamo concetti nuovi e allargamenti di gamma sulle nostre linee standard. Partiamo dai concetti nuovi, presentiamo la SaiBall. Nell'attuale richiesta di prodotti biologici e naturali e anche innovativi, ci presentiamo con questa bacca che proviene dalle foreste dell'Amazzonia, estremamente ricostituente, ricca di antiossidanti che viene utilizzata per la preparazione di una bowl. Nell'ottica di questi nuovi modi di consumo naturali e salutari come le poke bowl, noi ci inseriamo con la nostra SaiBall. e questa è una novità assoluta che ha come esclusiva azienda che la presenta Natfood in fiera. Poi abbiamo un'estensione di gamma sulla nostra linea dei Frap Shake, quindi bevande montate con ghiaccio, latte e decorate che l'anno scorso abbiamo presentato con l'Unicon Frap Shake, ad esempio. abbiamo l'allargamento di gamma della linea Frap Shake, i nostri prodotti montati e miscelati a base di latte, panna e topping. Abbiamo aggiunto quest'anno il Mister Lama Proteico, che è una referenza di Frap Shake, dal gusto biscotto, frutti di bosco, vanigliato, con un'icona che è il lama, che è un animaletto che sta diventando molto iconico, soprattutto nel target di riferimento, che è quello dei teenager, e abbiamo anche il cappuccino al carbone vegetale, anch'esso addizionato di proteine, quindi proteico, entrambi finiti con topi glitterati e zuccheri colorati e aromatizzati, quindi molto divertenti, molto belli, molto golosi. Hanno avuto un enorme successo in fiera. Ci spostiamo invece su un ambito di prodotto più, diciamo, salutare. Abbiamo presentato YoSoft Magro, con l'80% di grassi in meno, quindi target un po' più adulto, ma sempre goloso e sempre innovativo, decorato con fiori eduli di rosa e di malva. Poi abbiamo presentato ufficialmente in fiera anche una partnership con il consorzio Almaverde Bio Ambient e presentiamo tutta una linea di prodotti per i bar alto vendenti biologici, appunto a marchio Almaverde Bio in partnership con Nutfood. Quindi prodotti alto vendenti, quali caffè e ginseng, orzo espresso, orzo cereali, crema caffè, crema yogurt, cioccolate, granite, per dare l'opportunità al bar di creare proprio una proposta completa, biologica. Infine riposizioniamo il nostro bicchiere borraccia Happy Puppi, con chiusura ermetica, che è stato un grande successo in questi ultimi anni. Lo riposizioniamo come una vera e propria borraccia per andare incontro a questi nuovi movimenti, soprattutto giovanili. Quindi abbiamo scritto nel nostro stand Nutfood for Future perché chi vuole consumare la nostra granita, lo vuole fare la nostra borraccia, avrà possibilità di riutilizzarla e di non inquinare l'ambiente gettando un bicchiere di plastica. Alessandra, io resto sempre molto sorpreso dalla quantità di prodotti che presentate, prodotti nuovi intendo, che presentate a ogni edizione di SIGEP. Il vostro ufficio ricerca e sviluppo è estremamente attivo e vedo efficiente, i vostri 300 agenti avranno un bel da fare nel prossimo periodo per andare a proporre ai tanti bar, bistro, caffetterie in Italia tutti i vostri prodotti. Tuttavia, sai, c'è sempre la maglia che si smaglia e quindi qualcuno che vorrebbe entrare in contatto con qualche vostro agente e non sa ancora in che modo fare perché magari non è vostro cliente. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per avere maggiori informazioni o entrare in contatto con uno dei vostri agenti senza alcun impegno? Semplicemente www.nutfood.it c'è la pagina contatti oppure tramite Facebook. Abbiamo pagina Ginko, pagina Nutfood, pagina Instagram di Ginko e quindi direi che è semplicissimo e facilissimo rintracciarci. Alessandra, grazie per la disponibilità e l'ampio contributo direi per tutte le cose che si è andata a presentare. Noi ci tratteniamo qui per assaggiare qualcosa di nuovo, scegliendo tra tutte quelle che hai presentato, io rinnovo a te. L'appuntamento alla prossima edizione di SIG. E senz'altro ci saremo, grazie a te.